In Kryptonite Production Ho un video Ma dove cazzo è uscito questo? Yeh! Ciac prima Non si vede da qua Quelli qua Là c'è la scelta dei giambi Non siete che sta all'erba dietro? Dobbiamo spostare un po' più là Per il po' è il tuo pomodoro! Vai signori, avvicinatevi! Avvicinatevi, ragazzino attento! Vai signori! Vai signori! Orezza! Chi vuoi comprare? Questo è il pomodoro I pomodori di Zappaneta! Geneticamente modificato di Zappaneta A soli 5 euro al chilo Vado a dire una gamba vale un chilo Un'altra gamba uno, un braccio Un braccio, la testa Ve la do a 10 euro la testa Sono 3 kg Vi regalo un chilo, signora Dai avvicinatevi Avvicinatevi, avvicinatevi Buongiorno signora E' il pomodoro E' il pomodoro Sapovine Sapovine, sapovine La Zappaneta, questo si coltiva mia suocera E' da buglia E' tutta roba paesana La pulita con la buglia La pulita con la buglia Ok Ora io li faccio fare Scusa la messa E' i miei pomodori Li faccio fare Un allenamento duro Per farli mantenere Belli sodi, belli succosi Con poca sumenta Come piace a voi signori E ora vi faccio vedere L'allenamento a cui sono sottoposti i miei pomodori Vieni qua Vieni qua Ecco come vedete Il pomodoro si sistema da solo La sua area Di palestra Eccolo qui Eccolo vediamo Cresciuto In E' un organismo geneticamente modificato Sono intelligenti Sono intelligenti questi pomodori signori Allora guarda io gli faccio vedere Perché Lui per magia lo ripete No? Per crescere bello sodo Succoso essendo sumenta Come piace a voi Vi faccio vedere Sei com'è? Sei com'è? Sei com'è? Sei com'è? Sei un pomodoro Sei un pomodoro non parte Ma ragazzi ci vediamo Ci vediamo Ripeti Dopo di me Dopo di me Ripeti Ripeti No? Non si vede molto bene Però assaltate Cogione Ripeti Ripeti Vai Vai Ce la fai Con me un appoggio lo voglio Con me un appoggio Con me un appoggio Sono qua Sono qua Sono qua Un pomodoro che parla Sono un po' ribelli Però sono buoni signora Sono buoni Ve l'ho detto Cinque euro al chilo Un chilo ogni pezzo Ma la testa Di tre chili ve la do a soli Dieci euro In pratica Vi regalo Un chilo Voi pensare quattro Ma il cervello non ce ne ha E avanti signore Fatevi avanti Fatevi avanti Un'occasione da non perdere Questo è un pomodoro Un esemplare in via d'estinzione Molto raro che si accosta alla villetta Il suo volto è molto cupo Come possiamo notare Però non mi stuprate da dietro Grazie E allora signori Ora facciamo entrare un altro protagonista Che serve Nelle coltivazioni Quando si puliscono i pomodori Si gettano nell'immondizia E quindi Ecco l'immondizia dove vengono gettati i frusci del nostro pomodoro E lui è il pomodoro E' bellissimo Ecco Ecco Lui è un marricone che si mette davanti al carrello E mi fa sbandare Però diciamola tutta Poi c'è anche Questo compare mio Compare mio questo qua Sulle mani Lui direttamente Lui direttamente mi importa La roba fina paesana da mangiare coltivata direttamente Anche da fumare Coltivata direttamente A Tirana, Albania Ecco Questi sono altri ambulanti Io taglio la corda Perché ci sono gli altri Lui è l'immondizia Lui non lo so Lui è il marricone Lui è il pomodoro Lui è il munnezza Lui è l'albanese Lui è il ledò E io sono i venditori signori Ciao ci vediamo Pace a tutti